Mattia Gaddini, un bilancio di questi primi giorni di ritiro, ormai sono una decina, c'è stato un amichevole in mezzo, come vanno le cose qua? Per me, secondo me, vanno molto bene almeno al momento, diciamo che dopo la prima amichevole non è andata benissimo perché abbiamo perso 3-1, però comunque come bilancio generale penso che sia stata abbastanza positiva, era la prima partita, venivamo da quasi una settimana e mezzo di ritiro e penso che sia stato, diciamo, cioè che abbiamo fatto una buona prestazione, poi per il resto comunque stiamo lavorando, stiamo andando avanti, il ritiro penso che proceda bene e siamo tutti molto carichi, molto contenti, ovviamente c'è da lavorare, però penso che vada bene al momento. Tu hai fatto il settore giovanile a Spezia, poi hai fatto un anno di Serie D tra Borgosesi e Sestri, quanto è stato importante quell'anno lì, l'anno scorso per la tua formazione tecnica e anche credo caratteriale? Penso molto, anche se io ho avuto un pochino di problemi, quindi sono stato fuori qualche mese e poi mi sono ritrovato comunque in un gruppo abbastanza giovane, sia a Sestri un pochino o meno, a Borgosesi eravamo molto giovani, quindi da questo punto di vista ho ancora molto da imparare, soprattutto qua dentro che ci sono molti giocatori d'esperienza e sicuramente io cercherò di fare tesoro di qualsiasi cosa mi possano dire, qualsiasi cosa possono fare, quindi questo. Attaccante esterno per il 4-3-3, insomma le tue caratteristiche sembrano quelle ideali, mi dici da questo punto di vista anche tatticamente come sono andati questi primi giorni? Bene, io mi trovo bene, mi trovo dentro le indicazioni del mister per come vuole giocare lui, per come imposta quel ruolo, il ruolo che faccio io, quindi sono contento e mi piace come ci chiede di lavorare sulla fascia, sull'esterno, quindi penso che sia buono. Cosa può darti questa stagione a livello personale, Mattia, anche per la tua crescita futura e quali sono i tuoi obiettivi di carriera? Allora io prima cosa quest'anno spero di raggiungere l'obiettivo di squadra, che sappiamo benissimo qual è, e sicuramente se riusciamo a raggiungere questo anche personalmente riuscirò a fare, penso, spero, qualcosa, mi auguro qualcosa di buono. Ovviamente il mio obiettivo principale, il mio sogno che ho da quando sono bambino è di arrivare a giocare in Serie A e lo è ancora, è un obiettivo molto grande, sono qui per questo perché la società, la squadra, tutti, noi ragazzi, compreso io ovviamente, vogliamo fare bene, vogliamo ovviamente andare sempre più in alto, quindi il mio obiettivo è quello di cercare di fare bene per la squadra, per tutti, per me e cercare di salire. Bocca al lupo. Grazie, grazie.